35 ospiti e 16 operatori, questi positivi al covid dell'ASP, fossombroni ad Arezzo emersi nelle ultime ore. Un numero importante che ha determinato la decisione da parte dell'ASL di trasferire gli ospiti positivi nelle strutture di cure intermedie per il momento a Gazzi e Pescaiola ad Arezzo. Come sono le loro condizioni di salute sia di coloro che sono in ospedale ma anche di coloro che sono in questo diciamo reparto covid che voi avete creato all'interno della struttura? Sì, in questo momento le condizioni degli ospiti non destano particolare preoccupazione. Coloro che invece sono ricoverati come stanno? Al momento abbastanza bene, non abbiamo situazioni critiche per il momento. C'è stata anche una persona che purtroppo è mancata, ci vuole spiegare qual è stata questa circostanza? Sì, la signora purtroppo è deceduta domenica per cause non imputabili al covid anche se era uno degli ospiti positivi. Aveva delle patologie pregresse? Sì, aveva delle patologie pregresse molto importanti che purtroppo hanno portato al decesso. In questa situazione non facile per nessuno. Come si procede allora da adesso in poi? E poi se sapevamo che insomma sia gli ospiti ma anche gli operatori avevano già ricevuto la prima dose di vaccino, ovviamente i positivi non potranno proseguire con la vaccinazione. Esatto, è proprio così. In questo momento potranno proseguire percorsi di vaccinazione gli ospiti che sono negativi. Noi ovviamente stiamo continuando a fare tamponi a tappeto sia agli ospiti che ai dipendenti per cercare di isolare immediatamente nel minor tempo possibile, evitare contatti che comunque, ripeto, per la struttura come è stata adesso gestita non ci sono e quindi questo ci dà un minimo di tranquillità. Gli ospiti del piano terra sono tutti negativi, quindi vuol dire che insomma al momento sta reggendo quello che il protocollo prevede. L'operatore o l'operatrice da cui probabilmente è partito il contagio aveva fatto lo screening, quello diciamo consueto che doveva essere effettuato, era risultata? Negativa, negativa assolutamente. Il giovedì 21 sono stati sottoposti a tampone tutti i dipendenti e anche l'operatrice era negativa. Quindi è stato un suo scrupolo, chiaramente quello poi di avvertire di sintomi di un familiare, anzi la ringrazio perché ci ha permesso di intervenire immediatamente in maniera tempestiva prima che ci fossero problematiche più importanti. La vostra è anche un'azienda pubblica, com'è il confronto anche con il comune, con l'assessore di competenza? Assolutamente ottima, io sono in costante contatto con l'assessore Tanti che ci sta supportando in ogni modo possibile in questa emergenza, quindi siamo protetti sia dal punto di vista dell'assessore sia dal punto di vista dell'assessore, in questo momento dobbiamo tutti far fronte comune per superare questa emergenza nel modo migliore possibile.